A terra, un'impostazione di cerchini lassù, copre il fiume. Marlo, quello è tuo, in silenzio. L'hanno portato. Uomo sul molo, aspetta il tuono. Poi fallo fuori. Spara appena puoi. Bellissimo tiro. Presto, sergente, siamo in movimento. Penodi, aspetta il tuono. Spara appena puoi. Spara appena puoi. Bella mira. A tutte le unità. Avanti. Ricevuto. A ore dodici. Aspetta il tuono. Spara appena puoi. Ecco fatto. Bel lavoro, amico. Altri due vicino agli ufficiali. Aspetta che si allontanino. spara appena puoi. Spara appena puoi. Ok, zona libera. Adunata. Plata. A presto. Ciao. va bene stiamo facendo progressi ho un dubbio chi cazzo va in guerra con il cappello da cowboy? i cowboy ok, trappola neutralizzata bel lavoro Marlow trappola ok non possiamo muoverci abbiamo finito oh cazzo che discesa lunga ok, era solo un sasso sto bene a posto dentro il fiume ok, era solo un sasso ok, era solo un sasso ok, era solo un sasso abbiamo un sasso no, era solo un sasso con un sasso cominciamo No, 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 no. No, 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 no.